Sì, eravamo rimasti d'accordo con... Una di queste persone è affetta da malattia infiammatoria cronica intestinale. Ogni persona che riceve diagnosi di malattia pone la speranza in una cura. 250.000 pazienti in Italia sono in attesa di una cura definitiva per la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Le malattie infiammatorie croniche intestinali non hanno età. Amici Onlus sostiene la ricerca scientifica per le mici. Dai anche tu il tuo contributo.